Fabio Capello, noto allenatore e commentatore di calcio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sulla prestazione dell'Inter e sulle aspettative per la Champions League. Nelle sue parole, Capello ha sottolineato la qualità della squadra nerazzurra e l'esperienza accumulata nelle ultime stagioni, indicando questi fattori come fondamentali per le ambizioni del club sulla scena europea. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per altre novità sull'Inter. Capello ha esordito sottolineando che l'Inter, grazie ai risultati ottenuti alle prestazioni degli ultimi anni, inizia la Champions League con basi solide e garanzie acquisite in passato. Crede che la squadra abbia tutti gli elementi necessari per essere competitiva nel torneo più prestigioso d'Europa. Il tecnico però ha fatto un'osservazione importante sul ritmo di gioco mostrato dall'Inter nell'esordio in campionato contro il Genoa, precisando che l'intensità dovrà essere maggiore affinché la squadra possa raggiungere i suoi obiettivi sia in Serie A che in Champions League. Ha espresso fiducia nel fatto che l'Inter tornerà alla forma mostrata nelle ultime due stagioni, quando la squadra ha mostrato coerenza e capacità di affrontare le sfide più grandi sia sulla scena nazionale che internazionale. Secondo Capello è questione di tempo prima che la squadra di Simone Inzaghi torni a mostrare il calcio che l'ha resa una delle più temute d'Europa. Un punto interessante sollevato da Capello è stato il ricordo della finale di Champions League persa a Istanbul nel 2023. Per lui questo doloroso ricordo dovrebbe servire da forte motivazione per la rosa dell'Inter. L'esperienza di essere arrivati così vicini al titolo e di non essere riusciti ad alzare il trofeo potrebbe essere carburante in più per la squadra per affrontare la nuova edizione della competizione con ancora più determinazione e voglia di vincere. L'allenatore ha chiarito che l'Inter ha la capacità di imparare dagli errori del passato e di trasformare la delusione in un volano per i successi futuri. Crede che se la squadra mantiene la concentrazione e continua a sviluppare il proprio gioco, ci sono buone possibilità che l'Inter non solo possa lottare nuovamente per i titoli, ma anche superare gli ostacoli che le hanno impedito di raggiungere la massima gloria nella stagione precedente. Capello ha anche sottolineato l'importanza di aumentare il ritmo di gioco, soprattutto nelle competizioni di alto livello come la Champions League, dove intensità e costanza sono fondamentali per il successo. L'auspicio è che l'Inter possa aggiustare questi dettagli nelle prossime partite, così da poter rendere al meglio quando si presenteranno le sfide più difficili. Adesso, tifoso dell'Inter, vogliamo sapere la tua opinione. Cosa ne pensate delle parole di Fabio Capello? Siete d'accordo che l'Inter debba aumentare il ritmo di gioco per essere competitiva in Champions League? Credi che il ricordo della finale del 2023 possa davvero servire da motivazione alla squadra in questa stagione? Lascia i tuoi commenti qui sotto e metti mi piace per altre novità nerazzurre.